Dai un bacio con la Gestalt. Lunedì 11 aprile dalle 18.30 alle 19.45 terrò una lezione proprio con questo titolo che affronterà appunto la Gestalt. Gestalt vuol dire forma e la psicologia della Gestalt è proprio quella psicologia che ci permette di dare forma e corpo a tutte le nostre esperienze, da quelle più semplici come quella di mangiare un panino ma che poi così semplice non è perché quello che noi mangiamo diventiamo in qualche modo e il modo con cui lo facciamo ci trasforma a quelle più intime come quella di dare un bacio e sappiamo che un bacio è molto più intimo di un rapporto sessuale. Lo sanno bene le prostitute che sono disposte a farsi pagare per un rapporto sessuale ma non per un bacio. Durante questo incontro vedremo il ciclo di contatto della Gestalt che è un'imparcatura solida ma semplice per articolare qualsiasi colloquio da quello più lavorativo a quello più personale. Ecco la Gestalt è proprio un po' la psicologia che ci introduce nel magico mondo delle modalità. Quelle modalità che possono trasformare un'esperienza in un'esperienza di senso oppure quelle modalità che possono far perdere senso a quello che facciamo. Se sei interessato quindi sei invitato a questa lezione che fa parte del corso del Master in Coaching per cui ci saranno gli allievi della scuola ma questa lezione è aperta gratuitamente a chi vuole conoscere la Gestalt o a chi vuole annusare l'atmosfera della nostra scuola di coaching. Per cui se sei interessato trovi sotto i riferimenti, il numero di telefono, la mail per prenotarti un posto e ti aspetto lunedì. Grazie. 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 Grazie.